Musica Benvenuti sul canale, scusate l'assenza prolungata ma non so se avete sentito del casino climatico che c'è stato in Liguria Insomma sono rimasta per un bel post senza linea internet Sì ho la maglia di Omega, grazie Omega tra l'altro è fighissima, mi piace un sacco Però quale momento migliore per indossarla se non per parlare del fenomeno delle Brown Mountain, le luci fantasma appunto Questo qua è un film che vi sconsiglio proprio, cioè se mi chiedessero una recensione di quel film Quindi questo film che è proprio inerente al fenomeno delle luci fantasma, delle Brown Mountain, ok? Fa schifo, però 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 si parla di un fatto reale Oggi andremo proprio a vedere dei video di questo fenomeno che sono video incredibili, sono fantastici Questo luogo C'è una farfalla Questo luogo si trova nel North Carolina ed è luogo di molteplici avvistamenti Quindi queste luci si vedono da diversi punti di quella zona e è un fenomeno ben conosciuto su cui ci sono molteplici leggende Quindi insomma il fenomeno è ben noto dal 1771 Quindi insomma è qualche annetto che va avanti questa situazione Di fatto le leggende sui rapimenti alieni, gli avvistamenti, le situazioni, chiamiamole paranormali Che poi paranormali non sono Siamo noi che non riusciamo tanto bene a capire la tecnologia di questi signori Il fenomeno non solo ispira canzoni, un episodio addirittura di X-File Questo film, Alien Abduction, diverse leggende metropolitane Insomma richiama veramente parecchi curiosi sul posto Quindi io a questo punto, senza indugiare oltre, vi lascerei proprio alla visione di questi filmati Anche perché sono qualcosa assolutamente da vedere Qualcosa che certamente dal mio punto di vista è legato agli UFO Ed è una cosa assolutamente inspiegabile Quindi lasciate nei commenti la vostra impressione personale riguardo ai video proprio delle luci fantasma Sono UFO? Possono essere legati a fenomeni naturali? Può essere qualche progetto militare? Perché veramente tutte le ipotesi sono aperte È un fenomeno che si conosce da così tanto tempo Che pensare che si tratti di qualcosa legato all'essere umano Risulta un pochino difficile Comunque lasciatemi qua sotto le vostre impressioni Noi ci vediamo prestissimo Quindi ci rivediamo al prossimo video, grazie 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 Grazie